Tu hai involucrato solo per questo? Vito, sei un insensore. No. Noi non siamo uomini. Siamo più che uomini. In questo mondo quel genere di cazzate serve solo a una cosa. Forti ammazzi. Allora... Sei pronto per il tuo destino? Per quanto riguarda il nostro indio, non ci si tratta. Vito, viva. Vito, non ci si tratta. Quindi, non ci si tratta. Vito, vieni. 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 Grazie per la visione! 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 Grazie a tutti! Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!